Il vantaggio di Serena Mossi ormai è delineato, bisogna tagliare il traguardo. Mentre vediamo che per il secondo posto è delineata la posizione del corso. C'è una concesa tra l'equipaggio della Lega Normale e il suo tivorente. Il secondo posto per il classico Tivorania sembra che per il terzo posto... ... 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